A che punto è il tuo rimini, Luca? Per me siamo al 50-60% di quella che può essere la nostra condizione. Stiamo lavorando tantissimo, sono bravi perché non mollano di una virgola, però indubbiamente stiamo lavorando tantissimo, tanto, 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 tanto. Senti, questo momento è un po' strano, ci sono poche sicurezze per quanto riguarda il campionato, partecipanti, data di inizio, quanto può influire nella preparazione dell'approccio al campionato, il clima, nello spogliatoio? Sicuramente a noi ci ha cambiato qualcosa, questa settimana che per noi doveva essere una settimana di avvicinamento, l'abbiamo aggiunta a una settimana di preparazione, ma come abbiamo i problemi noi penso che l'abbiano anche le altre squadre, quindi non vediamo l'ora che cominci il calcio vero, che non è quello della Coppa, della Micheleone, ma quello del campionato. Quale indicazione hai avuto dalla prima uscita in Coppa dove non sei rimasto particolarmente felice dell'impatto? Io ho stato molto contento di tutta la prestazione fondamentalmente, primo tempo molto buono, secondo come loro, poi abbiamo fatto meglio noi di loro e quindi contro una squadra che faceva già la CIL l'anno scorso abbiamo dimostrato che ci possiamo stare anche noi. Bene, domanda personale l'ultima, che campionato ti aspetti dal Rimini di Righetti? Quali sono i tuoi obiettivi, le tue ambizioni? Noi dobbiamo cercare di essere la mina vagante in questo campionato, secondo me. Il nostro obiettivo, come hanno detto anche i ragazzi, è quello di mantenere la categoria, di essere come la Samaurese o Romagna Centro l'anno scorso, che su ogni campo facevano la guerra per portare a casa i risultati. Però ciò non toglie che se possiamo fare qualcosa di più siamo pronti a farlo. Grazie.